Ho la fortuna di essere qui già per il secondo anno di Cebito, mi sembra un festival molto bello e tra l'altro appunto non posso che pensarne bene perché già l'anno scorso erano i film di Walter Veltroni quando anche lì ho avuto un fatto il pieno di affetto di gioia appunto proveniente dalle persone che mi hanno fatto i complimenti, anche ieri è successa la stessa cosa moltiplicata anche per il fatto che io non ero solo attore ma anche regista, mi sembra una dimensione molto bella, Bari è bellissima. Io non ero mai stato al Bifest e mi sta prendendo tantissimo, tantissimo veramente, c'è un'atmosfera bellissima, è informale ma comunque accogliente e poi purtroppo non ero mai stato a Bari e ieri mi sono perso girando le cinque ore, è bellissima. Sì, veramente spero di tornare il più presto possibile, vuol dire che è andata bene. Il romanzo si sviluppa sempre in tre fasi ma diciamo scollegandosi dal protagonista. Diciamo il romanzo racconta del protagonista, poi della storia dei figli e poi di un'altra evoluzione. Invece noi abbiamo a un certo punto deciso di sviluppare il film proprio nell'ottica solo del protagonista e della sua vicenda. E poi è nata la difficoltà, cioè il capire nell'ambito del testo quali erano le proporzioni, i pesi, le misure che si volevano dare alle cose e qual era soprattutto il senso più importante da trasferire in un film rispetto all'oggi, alla quotidianità, perché i film parlano anche dell'oggi anche se sono ambientati nel passato. Il film non è set in il nostro tempo, non è set in il passato, non è set in il passato, è semplice, se posso dire così. Quindi il formazione e la cinematografia sono, in un modo, in un modo, variello e mixato con i modelli stilisti. E per esempio, le colori, ci sono un po' di blare, quindi il film non si trova digitale. Il film si trova più come un film analoge film. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.